Formazione nazionale riconosciuta, istruttore di esercizio funzionale. Qualificati professionalmente con le certificazioni ufficiali ATS, primo istituto in Italia per la formazione professionale in ambito scientifico. Esercizio funzionale rappresenta il metodo scientifico di programmazione delle sessioni allenanti volte ad ottimizzare la biomeccanica del movimento e massimizzare la performance. Attraverso una precisa sequenza di attivazione fisiologica, neurologica, articolare e muscolare, apprenderai come indurre il miglioramento dello stato di salute e l'esecuzione dei gesti motori. Tra i numerosi benefici dell'esercizio funzionale, possiamo annoverare una maggiore ergonomia del movimento, la prevenzione degli infortuni, il miglioramento dell'equilibrio e della coordinazione, la flessibilità e la mobilità articolare, l'incremento di forza, resistenza, velocità e rapidità. Per maggiori informazioni visita il sito istitutoats.com Scarica l'app ATS Italia o chiama il numero verde gratuito 800 17 30 25. Istituto ATS, la Lega dei professionisti. Dall'informazione all'azione.